Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questo video che vuole essere un video di sfogo, polemica e serve anche per cercare di raccogliere da parte vostra suggerimenti per come comportarmi al riguardo oltre ovviamente a fare opposizione come farò fra qualche minuto. Questo pomeriggio mi è caduto una cosa, una vicenda un po' strana, mi è arrivata una mail da parte di Google che mi avvisava che uno dei contenuti presenti su Marcosbox sarebbe stato messo in restrizione, stavo per dire censurato, ma non è censurato, mai viene messo in restrizione, però di fatto viene censurato perché non è liberamente accessibile a tutti. Mi è arrivata la seguente, allora innanzitutto faccio una premessa, sapete bene che Marcosbox è ospitato sulla piattaforma di Google, quindi Blogger, che è una piattaforma di Google e quindi devo sottostare tutte le varie regole di Blogger e di Google e quant'altro. Sì lo so, dovrei migrare ad altro, lo dico da anni, forse è l'occasione buona per migrare ad altro, fra qualche giorno ci sarà anche il compleanno del blog, quindi vediamo di fare finalmente di prendere il toro per le conna e mandare a quel paese, Blogger, la mail che mi è arrivata questo pomeriggio. Il post intitolato a soli la lettera al ministro Francesco Profumo su quiz per il concorso scuola 2012 verrà preceduto non avviso per i cattori. Questo è il post incriminato, vi faccio vedere che cosa significa avviso per i cattori, significa che se vi recate su quell'indirizzo vi viene mostrato il bannerino, dichiaro di voler comprendere, vuole continuare, oppure di non desidero continuare, se dichiarate di voler comprendere, di voler continuare nella visualizzazione di questo post con dei contenuti sensibili e scabrosi, dovete poi accedere con il vostro account Google. Perché viene segnalato? È stato segnalato perché viene segnalato, vedete, i tuoi contenuti sono stati valutati in basso dalle nostre norme relative ai contenuti per adulti. Quali sono i contenuti per adulti? Andiamoci a vedere le norme della community che cosa parlano. Contenuti per adulti? Vi lascio immaginare, sono proprio i contenuti per adulti. Quindi tutte quelle cosine che voi non volete far vedere alla vostra mamma. Sono ammessi sulla piattaforma di bloggeri contenuti per adulti, però deve essere presente un avviso che contrassegna il blog con contenuti per adulti o anche i singoli post possono essere messi come per adulti. Da quel che apprende, perché non lo sapevo questa cosa, i singoli post potevano essere messi come contenuti per adulti. E sapete di che cosa parla Marcos Box? Marcos Box parla soltanto di software, quindi informatica a 360 gradi, ma in particolar modo software libero open source. E appunto, di che cosa parlava questo articolo? Andiamo a vedere di che cosa parlava questo articolo. Questo articolo parlava di una vicenda accaduta nel lontano 2012. Ecco perché poi quando l'ho letto ho detto, ma che cacchio è successo io questo pubblico? Non mi ricordavo neanche l'avevo pubblicato. Siamo nel 2023. Nel quale, in questo articolo, che cosa andavo a riprendere? Andavo a riprendere la lettera aperta pubblicata dall'Associazione per i Soft e Libro di Comune Accordo poi con altre organizzazioni italiane, quali la Free Software Foundation, ma anche l'Italian Linuxosity, Libro Italia, Wikimedia Italia, quindi non gli ultimi blog, quelli complottali. Sono entità, sono associazioni che sponsorizzano il software libero, sono tutte associazioni autorevoli. Che cosa era successo nel 2012? Era successo che era stato fatto un concorso per la scuola, che avevo poi partecipato, io poi non ci ho fatto entrare maledizione. Io me ne ero accorto di problemi inerenti alle parti riguardanti l'informatica, c'erano degli eroi palesi, e questa cosa si erano accorti tanti, si erano accorti anche l'Associazione per i Soft e Libro, ed era stata pubblicata questa lettera aperta di fila al ministro, all'allora ministro Francesco Profumo, nella quale si chiedeva affinché venissero cancellate all'acquizzo tutte quelle domande che avevano risposte errate o che tenevano riferimenti a formati e software proprietari. La lettera integrale, c'è il link, e poi avevo anche ricopiato la lettera in modo tale che se la pagina andava giù, questa qui della... Vediamo se funziona ancora. Ah sì, è ancora presente la pagina. Quindi è ancora lì. Avevo poi ricopiato la lettera integrale, all'epoca non facevo la formattazione, quindi si vede che va tutto addonine. C'è qualche cosa di contenuto per la tutta qua? Non mi sembra. Non mi sembra da nessuna parte. C'era soltanto poi... C'era una lista poi di tutti quanti i Google e altri firmatari vari che avevano fatto aderito a questa proposta, questa lettera aperta. Non c'erano manco commenti scabrosi, offensivi e quant'altro. Quindi voglio capire chi è che ha fatto la segnalazione, che ha segnalato questo articolo come contenuto per la tutta. Io ovviamente farò adesso... Farò posizione, chiederò una revisione manuale, perché immagino che questa sia una cosa che partiene automatico quando qualcuno segnala... Adesso quello che voglio capire da voi, mi informerò anche io ovviamente, come funzionano queste cose? Cioè basta che uno, un picco pallino, si sveglia, gli sta sulle scatole quello e fa la segnalazione e viene bloccato? Non penso. Non penso anche perché non c'è un pulsantino apposito che riporta a Google che quell'articolo è brutto e cattivo, quella pagina è brutta e cattiva. Avrebbero riportato tutti i blog. Hanno riportato specificamente questa pagina. Quindi a chi è qui protesta? A chi è... Come si fa... Vabbè, qui protesta è l'elocuzione. Però a chi è prodotto Google che mi ha fatto la segnalazione? Così lo scopriremo nelle prossime puntate, lo scopriremo andando avanti. Io adesso, vi ripeto, farò opposizione, chiederò spiegazioni in merito a questa vicenda a Google, sperando che mi rispondano, anche perché sono proprio curioso di capire come è andata la vicenda. Voi avete suggerimenti? Vi è mai capitato una cosa del genere? Sapete che procedure da fare? Che mi consigliate, oltre a fare opposizione e a cercare di far casino in quello di Google, nella speranza che qualcuno mi risponda, ma sono sicuro che non mi rispondere a nessuno, lasciate un commento qui sotto nel video o sulle pagine di Marcosbox o all'interno del podcast, perché questo contenuto verrà ripubblicato anche su podcast di Marcosbox. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riaggiorniamo con gli sviluppi di questa vicenda. Ciao ciao. Aggiornamento sulla vicenda, per essere manco a bocca deve aprire, ho fatto posizione mediante l'apposita funzione presente su Blogger e hanno fatto subito la revisione e il post è stato reintegrato. Immagino che anche in questo caso sia una revisione fatta da un computer, da un software, perché i tempi mi sembrano proprio troppo brevi per poter essere stati fatti da un essere umano. quindi evidentemente il software avrà fatto un secondo controller, visto che non c'è niente al riguardo. La domanda però continua a essere sempre la solita, sempre la stessa, chi ha segnalato il tutto e soprattutto come funziona il suo cavo di sistema di segnalazione. Approfondirò nei prossimi giorni, come vi dicevo prima, approfondirò e vedrò un po' di capirci meglio sulla vicenda. Se avete avuto problemi simili, fatemelo sapere se sapete qualche cosa, se sapete da che cosa può dipendere una simile segnalazione, se è un falso positivo, se è stato segnalato da qualcuno, ma soprattutto come funziona il suo sistema di segnalazioni di Blogger, perché mi sembra un po' troppo strana questa cosa. Anche perché il software si era analizzato la prima volta, si era un errore del software la prima volta, il software non avrebbe trovato nulla al riguardo di contenuti produtti all'interno del post, no, perché non ci sono. Quindi non mi spiego perché il software prima trova la cosa, quindi secondo me c'è stata appunto una segnalazione da parte di qualche manina, che gli sono produte le manine. Ci ragioniamo, ci saranno si gruppi, come saprò qualche cosa al riguardo, ho intenzione di scrivere a Google per avere maggiori informazioni, però ripeto, se sapete qualche cosa, se vi è capitato, fatemelo sapere, lasciate un commento. Ciao ciao.